Sono terminate le operazioni in mare avviate con l'inchiesta della Procura di Paola per comprendere lo stato di salute del Tirreno Cosentino. Un'operazione portata avanti dagli uomini della Capitaneria di Porto di Vibo, avvalendosi del personale sub della Guardia Costiera di Messina, dell'ARPACAL e dell'ASP di Cosenza. L'inchiesta è partita dopo la cattura di alcuni strani tonnetti pescati lunghi il Tirreno Cosentino, nelle cui l'ISCHE è stata riscontrata la presenza di elementi considerati altamente pericolosi per la salute umana. Una storia emersa grazie all'inchiesta del Corriere della Calabria, che rientra nella più complessa emergenza che attiene il Mediterraneo alle prese con varie forme di inquinamento. In particolare, la Guardia Costiera ha concluso nei giorni scorsi il lavoro di raccolta dei campioni di pesci prelevati nei fondali, compresi tramante e tortora, da alcuni pescherecci che operano lungo la costa tirrenica. I tecnici dell'ARPACAL dovranno procedere alle analisi dettagliate per una caratterizzazione chimica completa dei reperti prelevati. Un caso, allo stato attuale isolati in Calabria, che però solleva non pochi timori sulla qualità della salute dei mari italiani.